Buonasera a tutti, bentornati al consueto appuntamento. Con le nostre ricette, con i ristoranti. Stasera vi propongo due ristoranti eccezionali a cui davo veramente la caccia da molto tempo perché potessero essere ospiti qui ad Aspettando il Tg. Un ristorante essenzialmente di pesce, la cui fama ormai è diventata tale, per cui arrivano a Firenze, in via in piazza del Cestello, al Cestello, addirittura dalla costa proprio per mangiare il pesce in un modo particolare. E un altro locale che invece si è distinto ancora prima di essere aperto perché è oggetto di un restauro molto molto particolare. Un restauro lungo, un restauro conservativo, pieno centro a Firenze, via delle Seggiole e quando poi è stato inaugurato il 16 di settembre, gran successo perché un grande chef, un ambiente molto molto particolare e quindi sono felice stasera di presentarveli tutte e due. Poi abbiamo un ospite, il presidente dell'ASET, l'associazione stampa Eno Gastro Alimentare Toscana, Stefano Tesi, con cui faremo una bella chiacchierata. Parleremo di tutto questo mondo particolare che ormai fa parte della mia ma anche della vostra vita. Adesso introduco con grandissimo, grandissimo piacere questi ristoranti che non ci sono mai stati, i cui chef sono, eccolo qua, Daniele Di Sacco con Luigi per il Cestello. Bentornato perché ti ho conosciuto un'altra veste. Buonasera. E poi Mario Farina invece del locale, di via delle Seggiole. Buonasera. Buonasera anche a te. Oh, guardate un po' che belli chef poi con i loro cappelli, quindi molto fieri di questa loro professione. Siamo appena reduci dal ventottesimo congresso proprio della FIC e che ha riportato, potremmo dire in un certo senso, in auge, no? Con una certa dignità, non solo televisiva, la figura del cuoco. Tu sei cuoco per passione, fin da piccolo? Sì, fin da piccolo, sì. Ho iniziato, completamente ho scoperto questa mia passione perché regalare a una mia sorella un dolcetto forno che doveva essere un regalino per lei, ci giocavo io. Avete capito com'è lontano il tempo. A te Luigi invece? Invece io ho sempre, ho fatto la scuola e ho sempre fatto questo lavoro che mi sono appassionato, sì, da adolescente e oggi... E sei qua, in un ristorante simbolo. E invece il nostro Mario Farina, il cui cognome è divertente, veramente molto divertente, è abruzzese, è il suo chef appunto del locale e anche per te la passione per la cucina è sempre stata in te? Sì, di famiglia diciamo. Di famiglia, ristoratori? Sì, i miei nonni erano una piccola trattoria in paese, sono cresciuto lì, da lì è un po' partito l'iter culinario. Senti, dove in Abruzzo se non sono indiscreta? Tagliacozzo, provincia dell'Aquila. Eh vabbè, allora voi lì un posto storico, veramente. Sì, sì. Tagliacozzo e poi c'è il parrozzo a Tagliacozzo, no? Mi pare, il dolce, che cos'è? Sì, quello è più dalla parte del Sulmontino, dalla parte di Scanno, dello chef Silla. Vedete, perché io sono un'appassionata di Abruzzo. Allora, questo ristorante ha fatto veramente grande, grande scalpore, perché è stata un'inaugurazione faraonica, bella proprio, ed era veramente molto atteso. Per cui so che voi, eccolo qua, guardate, voi sorridevate per tutto questo interesse che in Firenze si aveva aspettando l'inaugurazione. Anche perché il nome proprio significa, cioè, understatement totale, no? Sì, sì. Per un posto così particolare, il locale, come per dire che cosa significa? Cosa ha voluto intendere? Locale. Colui che è il proprietario e poi colui che ha coniato il nome. Lo sapete? Dobbiamo chiamarlo? Sì, sì. Dobbiamo chiamarlo? Sì, in diretta. Lo sanno, bisognerebbe, guarda, provate a chiamarlo perché è divertente sapere perché ha voluto chiamare locale così, locale, local oppure allocale? No, locale, per simboleggiare è il locale in centro, è il nostro locale. Ecco, ecco. Senti, comunque lo è diventato veramente. I piatti sono dei piatti molto particolari, essenzialmente di carne, famosi per questa griglia pazzesca. A carbone. A carbone e per carni di tipologia diversa, ma tutte di grande livello. Allora, cominciamo un attimino a spulciare. Raccontaci un attimo la griglia, i tipi di carne da griglia più particolari. Sì, sulla griglia partiamo dalla chianina, prodotto locale, passando nella vicina Spagna, quindi la famosa vaca veca, o vaca vea, quindi sono sempre bestie abbastanza adulte, stagionate, dalla parte della lombata, per arrivare fino al Giappone. Oh, cosa avete? La carne di Kobe? Carne di Kobe. Mamma mia, pensate che questa carne di Kobe è una carne assolutamente particolare. Proviamo a descriverne le caratteristiche. Sono manzi che hanno infiltrazioni di grasso nel tessuto, diciamo, più magro. Del connettivo. Del connettivo, perdonna. No, no. E risultano molto più tenere e succulente rispetto alle nostre razze autottome. Vengono trattate anche in un modo particolare, vengono massaggiate. Sì, dal massaggio alla birra. Massaggio alla birra, per cui insomma, essere una veramente vacca di Kobe è proprio il massimo. È già. È vero. Comunque, carne veramente molto particolare, assolutamente insolita, anche perché si parla tanto di Giappone, con questa mania che ormai è dilagata, ma quando si parla di ristoranti giapponesi mai si parla di queste grandissime, grandissime peculiarità che ha la carne di Kobe e raramente viene servita. Lì c'è. Bene, invece andiamo da Daniele. Il cestello, come potremmo descriverlo? Il più grande bancone di pesce crudo che ci sia, eh? A Firenze, sì. A Firenze. Anche se non abbiamo solo pesce, ma anche noi abbiamo carne, insomma. Sì, avete alcuni piatti molto particolari. Sì, molto particolari, molto ricercati. Come ricerchiamo piatti di pesce, ricerchiamo anche piatti di carne. Senti, ma dovessimo descrivere il cestello. Eh, il cestello è particolare perché appunto uno viene lì al dentro, si sceglie il pesce in questo bancone meraviglioso, si sceglie il pesce come vuole, le cotture come preferisce, dalla pasta ai secondi, agli antipasti, agli crudi. Facciamo tutti i tipi di crudi. Insomma, è sempre pieno. Dovete sapere che andare al cestello è un'impresa locale molto molto new yorkese, ma soprattutto c'è questa particolare realtà di questo pesce molto molto fresco, unico, potremmo dire, con una cantina fra l'altro a livello del pesce, sia da voi, a livello della carne, sia da voi. Allora, vediamo se voi mi avete portato delle ricette molto particolari. Sono curiosa. Vediamo un attimo. Tu, Daniele? Allora, noi abbiamo portato questa ricciola nel nostro mar Mediterraneo, che facciamo in crosta al nero di seppia. Allora, usiamo comunque con avvenimento questa ricciola, una salsa alle cipolle di certaldo, una salsa al sedano, le falde del sedano e le falde della cipolla. Qui ci abbiniamo insieme dell'aglio nero, che è un aglio fermentato. Mamma mia! Senti, fammi vedere subito l'aglio nero. È molto particolare. Allora, guardate, questo è un piatto che mi intriga già, perché nitido, direi, nonostante ci siano molte parti che sono elaborate, quindi il sedano e la cipolla di certaldo, si parla di eccellenze. Sono curiosa su questo carbone, diciamo, nero di seppia, che invece sembra quasi un carbone, con il quale avvolgerai la ricciola. E invece andiamo da lui? Abbiamo un piatto più essenziale, volendo così dire. Abbiamo un raviolo aperto con la dadolata di agnello, di ragù. Oh, mamma mia! Funghi porcini, che ormai stanno per finire, e della salvia fritta. Quindi assolutamente un piatto da comporsi, ma avendo fatto degli step prima. Sì, sì, c'è il ragù di agnello, cuoce le sue 4-5 ore, è impossibile da fare in diretta. Mamma mia, non l'ho mai fatto, ora ce lo racconterai. Allora, senti, Daniele, noi iniziamo con lui, va bene? Ok. Dopo c'è il quiz, eh? Allora, vediamo di capire, permetti? Prego. Questo ragù di agnello, come è fatto? Tagliato. In bianco. In bianco, tagliato rigorosamente a coltello, non macinato, si prepara dalla spalla o dallo scamone, dipende dai gusti, e tagliato a coltello, con le ossa viene preparato il famoso jus de vienne, o fondo d'agnello, e si spadella la carne, e in seguito viene aggiunto il suo jus, lasciandolo cuoce per 2, 3, 4 ore. Mamma mia. Insieme a odori, rosmarino. Ecco, perché questo jus, che è diverso dal fondo bruno, perché il fondo bruno sono ossa che vengono messe in forno, fatte essiccare, poi rimesse in una specie di brodo, di pentolone, dove cuoce, no? È quasi la stessa procedura. Però mi si dice che il jus de vienne è diverso perché ci sono tutti i pezzettini di carne, potremmo dire, attaccate, no? Sì, sì. Quindi dal cosciotto, che ne so, di agnello, oppure al piccione, oppure qualsiasi animale di cui vogliate fare il jus. Senti, l'agnello, molto molto particolare, soave potremmo dire, perfetto in questo periodo con i carciofi, visto che iniziano i carciofi, tu hai messo i funghi. Sì, siamo all'ultimo. Che tipo di fungo? Porcino, prevalentemente è quello delle nostre zone, quindi è castagno o quercia, dipende dalla zona. Ecco, e come li hai fatti? Stavo cercando di... Spadellati, tagliati a fettine, spadellati velocemente, questi andranno dentro il raviolo, dopo abbiamo dei porcini grigliati che andranno a guarnire il nostro raviolo aperto. Ecco, fra l'altro, vi volevo far vedere, i porcini che ha portato lui, sono porcini di quelli più grandi, tant'è vero hanno la loro parte più spugnosa verde. Li hai scelti apposta rispetto a questi che invece, vedete, sono assolutamente più giovani, potremmo dire. Sì, sono più giovani, più freschi, questi. Ecco, perché? Ma beccato, come si suol dire. Diciamo, è un fattore estetico, mettendo il fungo sopra, grigliato, abbiamo preferito quelli più giovani, per l'appunto. Ecco, io pensavo a consistenza diversa, cioè che il porcino più maturo avesse una morbidezza che fosse superiore e migliore, quindi, per inserire nel raviolo. Va bene, senti, la pasta invece. La pasta, abbiamo una pasta all'uovo, all'interno abbiamo inserito delle foglie di maggiorana, così. Passando la strada dopo strada sono state messe queste foglie di maggiorana. Ma guardate, a Mario sembra tutto semplice, io ora devo capire, prendo le foglie di maggiorana e dimmi come le inserisco. Si parte dal primo step della pasta, quindi la forma più grande, si ripiega, inserendo all'interno la pasta alla maggiorana e si incomincia a lavorare la sfoglia. Le sfoglie si inseriranno all'interno da sole. Vedete, lui le sa fare perché le sfogliatelle napoletane e abruzzesi soprattutto sono particolari e deliziose. Senti, voglio avere delle indicazioni sulla pasta, perché la pasta per i ravioli, anche se qui si tratta di un raviolo aperto, dovrebbe in teoria avere una percentuale di tuorli d'uovo molto superiore. Si. E qui invece le vostre percentuali di tuorli rispetto alla farina come sono? Quindi, diciamo, la pasta non necessita di essere così elastica, ok? Ah no? Ah, perché è aperto. È un raviolo aperto, non va lavorato, non va richiuso, quindi è una semplice sfoglia. Quindi 12 per un chilo? Ma dipende, o 8 e 6, dipende dalla ricetta. Ma lui dice, guarda, purché arrivi, vero? Daniele, la tua ricetta invece della pasta qual è? Il tagliolino per gli scampi? Beh, la ricetta classica sono 8 uova con un chilo di farina. E invece i ravioli di, mettiamo, con Kielsen-Jacques? Beh, lì magari con il raviolo si cerca di mettere meno bianchi, ma più rossi. Ecco, quindi per arrivare a un massimo di, perché insomma alcuni cuochi arrivano a Marco Stabile a 40, 38 tuorli, quindi sembra una cosa pazzesca, finché un giorno proverò io. Allora, bene, quindi è introdotto il profumo della maggiorana e aggiungiamo poi le foglie, scomponiamo, fritte, le foglie di salvia. Inseriamo le sfoglie nell'acqua. Io sono curiosa di capire il raviolo aperto come sarebbe, ma non era una ricetta di Gualtiero Marchesi? Sì, è iniziato lui, scusate. Il primo raviolo aperto mi sembrava che l'avesse fatto lui. Può essere buono, eh, questo ragù d'agnello. Quindi dobbiamo aspettare? Quanto? Un poco, un due minuti, un due minuti. Cos'hai messo poi? Qui c'è un'erba particolare, la sento. Rosmarino. Sull'agnello predigliamo il rosmarino e il fondo è senza carota, sedano e cipolla. Senza carota, sedano e che ci hai messo? Allora, cipolla? Sedano e cipolla. A sedano e cipolla e senza carota. Senza carota. Perché la carota addolcisce troppo? Addolcisce. Ecco, ecco. Mi piace questa idea, molto. Vediamo il nostro Stefano Tesi che ne pensa. Subito il presidente dell'ASET Toscana, associazione stampa, eno, gastro, alimentare. Eccolo qua. Buonasera. Allora Stefano, hai visto che bei ristoranti che ti ho portato e che bei bravi chef? A colina in bocca, li conoscevo di fama e non solo. Eh, quindi. Senti, è la prima volta che sei qui da noi e sono veramente molto molto felice. Intanto ci cuosce la pasta. Allora, sei reduce da tutto questo lunghissimo periodo che ti ha visto impegnato per lavoro anche sul fronte Expo. Certamente. Vediamo un attimo, tu dovessi fare, dopo tutti quei rumors che c'erano all'inizio negativi su Expo, tu dovessi fare sinceramente un bilancio? Ma è una domanda difficile nel senso che tutto dipende da cosa ci si aspettava. Credo che sia innegabile che Expo sia stato un grande evento e quindi sicuramente riuscito in termini di pubblico, in termini di sicurezza, in termini di far parlare di sé, in tante cose. Anche di numeri. Anche di numeri, sono stati confermati 20, non so quanti, centinaia di migliaia, tantissimi visitatori, lo dicevano anche questa mattina. Però ovviamente c'è anche qualcosa che forse potrebbe far pensare. Credo che Expo sia stato un grandissimo evento mediatico, che sia stato un grande contenitore di cose interessantissime, tranne forse per quelle cose un po' più di tipo umanitario, ideologico, che erano preannunciate e che forse hanno un po' tradito le attese. Ma secondo me era ingenuo crederci, no? Ecco, quindi vuoi dire che quello che era salvare il pianeta doveva essere stato uno spot più che in realtà una realtà. Quindi a consuntivo è venuto fuori più un vero bello spot di tutti i paesi del mondo. Sembrava di essere un'agenzia di atto. Io credo si sia parlato più di gastronomia, no? Che di cibo come sostentamento, il che non c'è niente di male, basta che sia chiaro nelle premesse. Ecco, quindi non essere ipociti in un certo senso. Esattamente, esattamente. Quindi lapidario, avete capito? Messaggio riuscito, ma non nel messaggio, diciamo, che si era anche... Sì, è un po' sovradimensionato, diciamo, forse. Forse è vero. Senti, che cos'è che ti ha colpito di più? Intanto io controllo perché Mario... Beh, allora, di Expo mi hanno colpito due cose. Da un lato la qualità di certi eventi specifici, assistere ai quali... Ma per esempio la Regione ne ha fatto un paio. Ne ha fatto un paio, uno molto interessante, sul Grand Tour come arma gastronomica per unire le Regioni e diffondere la cultura europea attraverso la concatenazione di conoscenze gastronomiche attraverso i paesi. Questa, secondo me, è una bella idea, molto da sviluppare e molto indietro per la verità, però secondo me è interessante. Quindi riprende il concetto del Grand Tour del fino a 800, primi 900, che era il viatico per i giovani ramponi del mondo. Esattamente. Quello era un Grand Tour formativo culturale e questo sarebbe un Grand Tour formativo cultural-gastronomico attraverso quindi il mangiare e la tradizione del cibo. Ci piace a noi. Ci piace moltissimo. Sì. E poi? Tra le cose, per esempio, non strettamente gastronomiche, ma è inutile negare che l'Expo è stato un successo anche dal punto di vista, come dire, organizzativo della sicurezza. Non è successo niente, i ritimuli erano tanti. Non ce l'ha fatto. Cioè, quello che stiamo vivendo in questi giorni ce lo dice, no? E quindi è stato certamente un successo. È stato meno un successo il problema delle code, però anche lì, come quando vai a Luna Park, io ho scritto un pezzo un po' critico, diceva che quando sono stato a Expo e non sono riuscito ad entrare da nessuna parte perché c'erano le code, mi sono sentito come quando negli anni Ottanta sono stato la prima volta a Disneyland, dove c'erano delle code enormi, ma tutti accettavano di farle perché facevano parte del divertimento. Ecco, se si accettava quello... Anzi, se ci pensi bene, insomma, le code che noi giornalmente vediamo di fronte ai nostri musei o all'Accademia sono code lunghe e pesanti. Se c'è qualcuno che è disposto a fare tre ore o quattro per entrare nel padiglione del Qatar, beh, venga, è un problema suo. Era un po' meno apprezzabile il fatto che anche chi era lì per lavorare come me, cioè con un giorno solo per fare giornalista, dovesse farsi tre ore di coda e quindi praticamente non falle niente. E quindi non hai visto neanche il Qatar? Niente, non è nulla. Sono stato fermato da un collega tedesco, disperato, che mi ha visto col pass stampa al collo e mi ha detto, scusa, ma neanche te puoi entrare da nessuna parte? Ho detto, no, dobbiamo fare le code. Poi ho scoperto che qualcuno invece le code si poteva evitare di farle, però a nessuno me l'ha detto, io da corretta persona... Quindi tu da corretta persona non hai usufruito delle fallicilities della stampa, ma sei andato in coda. In coda. Bene. Adesso invece stai buono perché c'è la pubblicità. Quindi altra coda. Grazie. 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 Grazie.